L'ultimo fine settimana della stagione ufficiale della Cantina d'Altà dei Cattivi Maestri per nostra tradizione prevede sempre due spettacoli che concludono la stagione proponendo le più recenti produzioni della nostra compagnia per congettarsi dal pubblico di venerdì 29 maggio al 21 ci sarà l'onorevole di Leonardo Sciasca, uno spettacolo che sta andando ancora piuttosto bene nella seconda stagione che crediamo che continui a questo dato di Nati che affronta i temi separatoriali della politica, del potere, dei rapporti fra la politica e gli altri poteri, la chiesa per esempio e sabato trent invece questa tua pelle ardente, produzione più recente della stagione in corso di Williamson e Edmond, commedia che ha appunto con questa nostra messa in scena il primo allestimento della prima traduzione italiana ma come negli anni venti che affronta un tema anche questo piuttosto forte nei nostri giorni su quello dell'eutrazia.